Scena Natura è un festival che si svolgerà tra giugno e settembre a Fienile Fluo e nel magnifico scenario naturale delle colline bolognesi. Ospiterà spettacoli teatrali, concerti e performance di danza. Le proposte artistiche in programma sono state scelte, pensate in funzione di questo luogo naturale in un'ottica di reciproca valorizzazione. Gli eventi si svolgeranno al tramonto e in orario serale e verranno ospitati in un bellissimo anfiteatro tra i calanchi, in un vigneto, in alcuni giardini qui nei dintorni e uno spettacolo avrà uno svolgimento itinerante e si snoderà in un percorso tra queste colline. Io sono Angelica Zanardi, direttrice artistica del festival e vi aspetto quest'estate a Fienile Fluo. Gli eventi si svolgerà a Fienile Fluo. Gli eventi si svolgerà a Fienile Fluo.